Ma che ore... Oddio, tra un po' arriva Roberto, devo sbregarmi! Bambola, una mia ti andrebbe di... Ma certo, amore, non aspettavo altro. Wow! Triscia, è più liscia la tua amica che la mia faccia! Senti un po', che ne pensi se ci mettiamo comodi e... Eh, sì, ma non ho avuto proprio il tempo di rifarmi il pelo, Roberto. Non saranno mica due ciuffetti a fermare i miei bollenti spiriti. Ok, come vuoi. Triscia, ma che schifo! Beh, Roberto, io ti ho avvisato. Ma, sembra che c'hai Rapunzel, immersione e mora tra le gambe. Senti un po', se vuoi mi fai due trece, una a destra e una a sinistra e liberi il passaggio, altrimenti potresti sempre fare Tarzan, eh, nella giunta. Vediamola, con la sua liana, che ne pensi? Sì, bambolona mia! Vai, amore, crea un po' di suspense!